Mina Farilla, assessore agli spettacoli e alle politiche sociali del comune di San Giorgio. In questo evento, Gets Traivicoli, si compendiano le attività delle sue deleghe assessorili, perché parliamo ovviamente di spettacoli, e il Gets è spettacolo, ma ha anche una valenza sociale, perché permette l'aggregazione, perché permette il coinvolgimento e la compartecipazione delle associazioni, insomma una iniziativa che vuole tenere unita la realtà di San Giorgio e non solo. Allora, diciamo che dall'anno scorso è stata la prima esperienza, quindi ci siamo imbarcati in questo Gets Traivicoli e l'anno scorso è stato molto sentito e è andato molto bene. Quindi noi ogni anno proporremo questa, sarà ormai un evento, una consuetudine fare questo evento, anche perché con il coinvolgimento di tutte le associazioni, che sono indispensabili, quindi senza di loro non si potrebbe realizzare un'amministrazione comunale, non potrebbe arrivare a, come dire, arrivare a completamento per una serata come questa. Io spero che anche quest'anno vada bene come l'anno scorso e auguro veramente che sia un momento di aggregazione per tutti, perché il Gets è un momento anche dove varie, anche le famiglie, i bambini, perché ci sono dieci gruppi molto variegati, quindi insomma c'è l'interesse che può essere per i più giovani, i meno giovani. Diciamo che è una serie di band che rispondono ai vari gusti musicali. Ai giovani, a tutte le esigenze, insomma, dei nostri cittadini. Notavo con piacere che la partecipazione vede appunto tanti giovani e meno giovani, è questo anche il segreto della riuscita. Il Gets viene seguito effettivamente, anche l'anno scorso ho avuto questa, ho notato questa cosa. Il Gets è seguito, noi l'anno scorso abbiamo visto gente che è venuta da Lecce, fuori, quindi chi ha l'interesse del Gets è una fascia d'età che ha delle competenze un po' particolari. Il Gets non è per tutti, secondo me.